Gli agenti della sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, nel corso dei servizi di vigilanza stradale eseguiti sull'autostrada A19, hanno sanzionato due automobilisti distratti che, avendo superato lo svincolo di uscita dell'autostrada, effettuavano una pericolosa manovra in retromarcia vietata dal codice della strada e sanzionata con 430 euro di multa e la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida. Nei confronti di un autotrasportatore controllato sulla strada statale 640 è stata invece elevata una sanzione amministrativa di 4.130 euro per violazione della legge che disciplina il trasporto di merci su strada. Nell'occasione, infatti, il conducente trasportava merci diverse da quelle prescritte in licenza. Oltre alla sanzione pecuniaria è stato disposto anche il fermo dell'autocarro per tre mesi. Sulla strada statale 626 è stato controllato un altro autocarro che trasportava merci senza il telone di copertura, necessario per evitarne la dispersione sulla sede stradale. La dispersione e la successiva caduta del materiale trasportato, infatti, possono causare pericolo agli altri automobilisti in transito. Al suddetto conducente è stata elevata una sanzione di 87 euro e la decurtazione di tre punti sulla patente. Un'altra autovettura è risultata avere gli pneumatici inefficienti e il vetro parabrezza con tante inclinature che limitavano gravemente la visibilità. Nei confronti del conducente è stata elevata una sanzione di 261 euro e lo stesso sarà segnalato per la revisione straordinaria del mezzo ai competenti uffici.